Il nome? Alfred. Che età? 25, vivo a Savona. Da dove vieni? In Albania. Sono venuto qua questa serata dal Spettetting, anch'io, per conoscere la nuova amicizia, così vediamo un po' così. Pensi che ti possa divertire una cosa di questo genere? Penso di sì, sono partito con questa idea, poi vediamo un po' cosa si scopre dopo, conoscendo le altre ragazze o tutte le persone che sono tutta la gente. Senti, in un incontro di Spettetting, quali sono le carte migliori che tu pensi di poter giocare? Le carte migliori sono... Il meglio di te? E... Avvicinarsi a una ragazza, a esprimere tutte le mie cose sincere, poi se riesco a conquistarla con tutte le mie capacità. Ecco, ma tu cosa pensi di mettere in gioco in questo Spettetting per conquistare questa ragazza? Mi metto un po' me stesso in gioco per far mettere altre ragazze in gioco. E tu pensi che ci sarebbe una disponibilità da parte delle ragazze che hai di fronte a lasciarsi così conoscere da te? O pensi che nasconderebbero qualcosa? Quello non si sa, io penso di sì. Pensi che con le tue domande riusciresti a... A conquistare qualcuna, sì. A far abbassare la guardia, a acquistare fiducia? Sì, sì. Beh, in effetti hai un sorriso che è abbastanza disarmante, no? Sì. No? Dici, io non ti sono nemico, con me ti puoi confidare. Sì, sì, sì. Però quella è anche decisione di una ragazza, volendo che tipo di persona vuole. Uno, abbiamo chiesto una cosa, tu sei singolo? Sono singolo, sì. Do un po' di tempo, sono singolo anch'io. Quindi tutte le storie di persone che sono assolutamente libere da impegni e desiderose di impegnarsi? Sì, forse sì. Se trovo la persona giusta, forse è arrivato, arriva il momento che in certi momenti, riesco a esprimermi tutte le mie idee che ho con un altro, delle fiducia della mia parte. Sì, ma tu hai detto persona giusta. Descrivici un po' questa persona giusta come dovrebbe essere fatta, dentro e fuori. Persona giusta, una che ti sta vicino, che ti vuol bene. Non voglio che una sia troppo bella, sia che sia un po' intelligente, quella sì. Perché nel mondo dove viviamo è importante. È tutto qua. Fedele? Fedele, senz'altro. Dolce? Dolce, sì. Senti, hai sentito tanti modi di affrontare questo speed dating. Sì. Cosa condividi e che cosa invece... Guarda, ho sentito tutti. E tutti abbiamo dato una idea diversa. Però come Francesca, che si vuole divertirsi, come Davide, che vuole una storia seria, come Laura, anche, ho Pia, che chiede il mistero, e così, cioè, io direi che non sono troppo sulle cose a momenti, perché anche per l'età che ho, la cosa troppo seria a momenti non mi serve. Di più a divertirsi, poi se la cosa andasse bene, voglio direi, tutto qua. Va bene. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.